Beh, ormai possiamo dire che siamo alla stretta dei sacchi. Sabato a mezzogiorno liste e candidati ufficialmente saranno presentati agli uffici preposti. A sentire i rappresentanti dei vari candidati sindaci di Pagani e Nocella Superiore ormai il dato è tratto e bisogna solo pensare a limare o a cesellare alcune liste trasferendo dove possibile qualche candidato o candidata dall'una o ad un'altra lista dove c'è necessità per rientrare nei parametri della presenza femminile o anche dove è necessario dare maggiore forza o visibilità alla lista stessa. Sono comunque azioni che si sono sempre sviluppate nel corso degli anni e delle votazioni per cui non c'è da meravigliarsi. I candidati di tutti gli schieramenti sono già sulla linea di partenza e pronti ad affiggere manifesti o rocantini a diffondere santini per la propria propaganda. Dicevamo i giochi sono ormai fatti in quanto anche il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato nelle ultime ore le candidature nell'agro Nocerino Sarnese con l'avvocato Santino Desiderio a Pagani e Carlo Mandara a Nocera Superiore mentre a Sarno c'è Anillo Prisco e a Scappati Giuseppe Sarconio e da sabato 27 aprile alle ore 12 tutti a lavorare ed a correre si dice in gergo per la conquista di un seggio al Consiglio Comunale e per condurre ciascuno per proprio conto alla vittoria il proprio candidato sindaco.